Buonasera, siamo con noi. D'Ammenuso che stasera si è giudicato alla vittoria della squadra per 5-3. È una estazione esaltante per Valerio. Stasera come ci avete visto questa partita da Valerio? Un rilancio? Sicuramente un rilancio, perché comunque stasera c'erano tutti gli elementi della squadra. Un grande grazie alla legge a scuola, all'attore, che, diciamo, mi ha fatto andare in frattaccia più forte. Stasera stavo in vina, fortunatamente. Un bel 5-3. Una grande dedicata a questo mio amico, con l'appese sull'orecchio. Una grande attestazione per tutta la scuola, l'avete già scuola. Gli ha fatto anche un gran gola. Ricordiamo che è duro, avete detto. Cosa ne hai messo di questa partita? Diciamo che è stato tatticamente, l'abbiamo sorpreso perché loro, noi non lo abbiamo sorpreso. Giustamente, l'esperienza della nostra squadra, a me, dal dottor Vittorio, con il campo. Diciamo che sono amministrati, questo 5-3 che ce l'abbiamo, veramente più baci. Dove pensi che possa arrivare a questa squadra? Non sappiamo perché io ho iniziato la prima volta, io ho iniziato la prima volta, io ho iniziato, diciamo che... E noi vediamo, arriveremo in questa partita, in modo se ne guarda anche il testo, un po' di più, pure il tiro che ci vuole. Diciamo un po' di più, perché io ho iniziato già, questo tiro in posto, già dal settore del centro della squadra. Facciamo una cosa qui, un obiettivo per questa stagione, valevole. Ah, io ho iniziato. Che continuiamo? Sì, portiamo. Se arrivare di cento, se lo parliamo. Di cento. Di cento. Quindi se arriviamo, se arrivate... Oltre, diciamo alla semi-finale, valeo e deve fare un bit. Il secondo mito e deve fare un bit. Se vengono tornare, l'amore. A fare un malone. Ok. Grazie. A presto.